Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. La consorte del conduttore, Giovanna Civitillo, ha fatto una dichiarazione rivelatrice, condividendo dettagli significativi della sua esperienza. Vediamo ciò che ha comunicato durante un'intervista per i media. Giovanna si è profondamente emozionata, fino a versare lacrime, parlando del suo legame con la primogenita del marito, che ha conosciuto quando aveva appena cinque anni. Il rapporto con Amadeus ha conosciuto alti e bassi, e questo è testimoniato dagli innumerevoli segni d'affetto che Giovanna manifesta nei suoi confronti e viceversa. Siamo cresciute insieme, lei è stata la bambina che mi ha rivelato il lato materno, e oggi siamo più di una madre e una figlia. Siamo complici, amiche, confidenti. È un legame meraviglioso, ha rivelato Civitillo in un'intervista con Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo. Giovanna ha sottolineato che non era affatto scontato che avrebbe avuto un rapporto così speciale con la primogenita di Amadeus. La Civitillo ha anche parlato del suo rapporto con Amadeus. Ci amiamo come il primo giorno. Abbiamo avuto la fortuna di vivere l'incontro perfetto. Questo amore è nato con impeto, passione e gelosia, ma con il passare del tempo si è consolidato, diventando ancora più solido. Condividiamo tutto, ci sentiamo cento volte al giorno e ci confrontiamo su ogni aspetto, sia la vita privata che il lavoro. Queste sono state le sue parole. Grazie per la visione e al prossimo video. Ehi, non mancare!